...para, che parla di un personaggio notevole, ecco, di un personaggio notevole di queste zone. E, che dire, io non l'ho finito questo libro ancora, mi autodenuncio, non l'ho finito di leggere, però è una storia estremamente affascinante che parla di tanti temi dei quali forse ne toccheremo qualcuno e lasceremo che sia donato anche a ricapitolarcene un po' la traiettoria. Però la prima cosa che ti vorrei chiedere, appunto, è un po' di presentarti e di chiederti come sei arrivato a quest'idea, a scrivere questo libro e il tuo percorso in generale che ti ha portato fino a qui, oggi, con noi a Sisca. Grazie. Allora, io sono donato Montesano e sono nato a Tricarico. Questa storia nasce un po' da lì, nel senso che un mio caro amico mi parlava di questo suo cugino, ex rapinatore, e io ero estremamente affascinato da questa figura ed ero anche un po' invidioso di non essere io il cugino, no? Per poter ascoltare tutte queste storie. Così, appena abbiamo avuto l'occasione, questo mio amico mi ha fatto conoscere il suo cugino rapinatore e ho iniziato la raffica di domande perché ero curiosissimo di sapere, perché di base sono curioso di mio. E tra le tante cose poi è venuto fuori che io scrivevo e quindi abbiamo deciso insieme di scrivere questa storia. A me interessava scrivere un romanzo, non una biografia, perché volevo metterci dentro del mio, tutto quello che ho acquisito durante gli anni, appunto essendo curioso, essendo anche legato alla mia terra molto. E quindi partendo un po' dalle fiabe che mi raccontavano i miei nonni, che erano per me il pane quotidiano, quando ero piccolo veramente, li ho sfiniti perché volevo sempre ascoltare queste storie. Fin quando poi sono cresciuto, durante l'adolescenza ho scoperto alcuni altri miti, dalla musica al cinema, ad autori di libri che mi hanno cambiato completamente la visione e mi hanno fatto venire voglia di scrivere delle storie mie. Infatti ho iniziato scrivendo una raccolta di racconti, giovanili, e poi abbiamo deciso di scrivere questa storia che era un romanzo molto complesso, perché è una storia molto complessa e quindi ci abbiamo lavorato per tanto tempo, per sette anni precisamente. Sette anni di gestazione per un romanzo che è un'opera grande. Insomma, io ho visto già che racconta tante cose, non solo la storia di un criminale, ma anche la storia di un migrante, anche la storia di una famiglia, di una dimensione familiare, eccetera, eccetera. E un'altra domanda che ti avevo annunciato, che ti volevo fare, appunto, è stato come è stato lavorare con il tuo protagonista? Come è stato per un autore di un romanzo trovarsi a confrontarsi con il protagonista in carne e ossa? Cioè, ma è stato un momento in cui glielo facevi leggere man mano che lo scrivevi? Ecco, questo genere di cose, ne avrei tante da... No, non glielo ho mai fatto leggere, perché una cosa che mi ha colpito di lui è che mi ha dato carta bianca. Non so per quale sua visione, però mi è piaciuta la cosa che si è fidato subito di me. Ha detto, scrivi, poi vediamo alla fine cosa hai tirato fuori. Questo mi ha permesso di lavorare con serenità, però. Perché tu immagina scrivere ogni capitolo, insomma, qualche capitolo, e mandarglielo e pensare che potesse non piacerli, oppure... È un po' frustrante anche come lavoro. Io volevo lavorare molto liberamente, appunto, essendo un romanzo e non una biografia, no? E quindi ci sono stati solo degli incontri, oppure io delle telefonate nelle quali gli chiedevo dei particolari. E soprattutto la cosa più difficile nello scrivere un romanzo del genere è capire delle situazioni che non conosciamo assolutamente, come il carcere. Noi possiamo immaginare tantissime cose, ma alcune cose se non le hai vissute è difficile raccontarle, no? Immaginiamo... Cioè, come potremmo raccontare? Qualsiasi elemento del carcere, come possiamo immaginarlo? Qualsiasi giornata trascorsa in carcere, possiamo immaginarla sì, ma in modo molto limitato, no? E quindi la cosa che mi interessava di più era approfondire degli aspetti che io potevo solo immaginare e che non conoscevo assolutamente, come anche le rapine, come si fa una rapina, davvero, e non idealmente, no? E lì vorrei tornare un attimo sulla figura del tuo protagonista, che è stato uno dei criminali di carriera più noti e più temuti, potremmo dire, del torinese, pur non avendo mai, infatti non solo in Piemonte, ma anche e soprattutto all'estero, in Svizzera, in altri paesi, e definito da molti, insomma, un maestro dell'arte della rapina, uno che è riuscito a non sparare un colpo in tutta la sua carriera e a condursi sempre con una precisione da orologiaio quasi nella sua preparazione. E quindi, insomma, ti volevo chiedere, secondo te, chi è Pancrazio? Chi è il tuo protagonista alla fine di questo libro? Se io dovessi chiederti, dopo tutta questa ricerca e questa indagine romanzesca? Allora, il protagonista del libro, Pancrazio, è un bambino. Immaginiamo un bambino, cioè, immaginiamo qualsiasi bambino, come lo siamo stati noi quando giochiamo, quando ci sentiamo invincibili e quando pensiamo di poter fare qualsiasi cosa perché nulla ci tocca. Noi da bambini lo facevamo per gioco. Lui e il suo gruppo e quelli come lui lo facevano davvero e continuavano a farlo. E la cosa che mi ha impressionato è che, appunto, loro non avevano nessuna paura del rischio, assolutamente. Proprio come dei bambini che giocano tra di loro. E poi un'altra cosa interessante è che, anche quando sono diventati molto ricchi, non si sono fermati mai. Poi mi ha spiegato che c'è una sorta di adrenalina, come una droga per loro. Cioè loro non interessava più il denaro, ormai erano ricchi sfondati. Immaginiamo a vent'anni avevano dieci miliardi di lire ciascuno, i componenti della banda. Ma non si sono mai fermati. E questa è una cosa che mi ha impressionato molto. E poi c'è l'etica che avevano loro, l'etica dei rapinatori, che è un'altra cosa che è difficile da immaginare. Una cosa che mi ha impressionato e che mi ha stimolato come episodio per il racconto è che i primi rapinatori sono stati partigiani. Io era una cosa che non sapevo. E perché erano i partigiani? Perché dopo la seconda guerra mondiale, durante la resistenza, le città in cui c'era stata la resistenza, erano come Torino, Roma, Milano, soprattutto le periferie di queste grandi città, erano devastate ancora. Per dieci anni hanno continuato ad essere devastate. La gente continuava a morire di fame. Nonostante i politici che erano andati al potere, erano anche alcuni partigiani. E cosa è successo? Che questi politici, anche se facevano parte del loro gruppo di partigiani, hanno dovuto adeguarsi. Per esempio hanno fatto delle leggi che vietavano la ritorsione contro i fascisti, gli ex fascisti. Quindi se tu conoscevi qualcuno ex fascista che aveva magari contribuito alla violenza di tua mamma, tua sorella, tua moglie, tua zia, tutti i tuoi cari, proprio la tua sofferenza anche personale, non potevi toccarlo però. Certo, c'è una linea sottile. E cioè dici, è giusto, non è giusto. Però immaginiamo la rabbia di quella parte di gente. E quindi cosa decidono? Visto che non potevano fare più niente, che ancora c'era la fame e la miseria nei loro quartieri, decidono di fare rapine. I primi rapinatori sono i partigiani, anche perché l'unica cosa che sapevano fare era usare armi. Loro, abbiamo testimonianze di partigiani anche 13 anni, quindi sono nati in mezzo alle armi ed era un addestramento da partigiano, quindi neanche molto, non da esercito, però era l'unica cosa che sapevano fare. Dice, allora, è così, andiamo a prendere i soldi dove ci sono, nelle banche, e aiutiamo la nostra gente. Fu così. I primi rapinatori italiani sono stati ex partigiani. E poi, la cosa bella, una delle scene che mi è piaciuto raccontare, è proprio questo passaggio di consegne. Farò un piccolo spoiler, però è bello, secondo me, e non è fondamentale. C'è un ex partigiano, loro decidono in un certo punto di fare rapine a causa di tutti i disagi, vissuti, discriminazioni, e si rivolgono a un ex partigiano per avere le armi. Il partigiano gli consegna le sue armi e dice, adesso tocca a voi, perché era un altro tipo di disagio in quel momento storico. E quindi c'è questo scambio tra generazioni. Molto affascinante, questo è anche un aspetto di rivendicazione, perché poi si è abituati a pensare all'obiettivo monetario. Faccio un colpo e mi risolvo tutta la vita, un furto in banca e vado. E invece, evidentemente no, perché loro continuano e hanno qualcosa che li muove, che va oltre l'esigenza di sopravvivere o la volontà di stare bene economicamente. E quindi questa è una cosa che ha delle origini. E tu le indaghi anche nel rapporto con la terra, col territorio, con gli altri, eccetera, eccetera. E un altro punto che mi colpisce è proprio anche questo legame di fiducia interno dei rapporti all'interno di queste bande, che diventa un po' un noi contro tutto il mondo. una guerriglia se vogliamo partigiana, però a questo punto contro tutti e in particolare contro tutti quelli che hanno i soldi e poi le banche, ecco appunto, per citare Brecht, che cos'era affinare una banca in confronto al fondare una banca. Quindi niente, su questa cosa dei rapporti fra le bande criminali, ha cambiato più volte partner e non è andato avanti sempre con lo stesso gruppo di persone dall'inizio alla fine. Anche questo fa parte dell'etica e del codice che avevano loro. Cioè questo partigiano oltre a consegnare gli armi dice sì voi volete fare rapine ma dovete sapere come si fa. Lui gli dice io ne ho fatte tante, ci sono state tanti episodi negativi, ho imparato come si fa. Innanzitutto gli dice la regola fondamentale è quella di fare rapine solo con amici fidati, con amici veri. Perché? Perché tu sei lì appunto fai una rapina e chi ti difende deve essere pronto a coprirti le spalle. Quindi deve conoscere il valore dell'amicizia per mettere la propria vita a repentaglio per la tua. E quindi anche l'amicizia è molto profonda. Mi ha colpito molto anche questo aspetto che poi si mischiava anche con alcuni valori che sono miei con il valore dell'amicizia è una cosa che mi ha sempre accompagnato e che ritengo fondamentale più di tutto forse. E quindi mi piaceva anche mischiare queste due cose. E il rapporto che avevano tra di loro e nell'etica del rapinatore che diceva sempre questo partigiano c'è anche il fatto di non strafare. Cioè voi fate la rapina diventate ricchi ma non ostentate. quindi innanzitutto mai droga mai prostitute mai dovete rapinare e mettere da parte e poi cercare di fare intelligentemente le vostre cose. E quindi anche questo è uno degli aspetti che uno non immagina perché uno immagina di fare rapina a 20 anni 18 anni come i calciatori che si danno che arriva un 20enne 18enne e diventa un miliardario di botto e si monta la testa infatti molte carriere sono strongate all'inizio e quindi questo è un altro delle regole che gli dice l'amicizia l'amicizia e il rispetto tra di loro. C'è un altro elemento poi che è interessante perché nella sua carriera Pancrazio non si è mai legato poi alla criminalità organizzata pur alla criminalità organizzata italiana nei suoi vari gruppi che pure è molto presente soprattutto in carcere in ambienti in cui lui pure si è trovato a vivere a muoversi eccetera eccetera e mi chiedevo come l'hai rappresentata tu questa se l'hai rappresentata se hai scelto di rappresentarla come l'hai rappresentata questa dinamica con queste altre e che senso ha questa scelta poi da parte da parte sua è una cosa di prudenza è una questione etica c'è una frase nel libro che lo spiega bene secondo me quando in carcere gli viene proposto da un potente boss di aggregarsi a lui di affiliarsi lui gli dice se volevo un padrone andavo a lavorare non avrei iniziato a fare rapine e questo però è una risposta che in quegli ambienti è molto rischiosa perché appunto io noi non immaginiamo effettivamente qual è l'ambiente del carcere invece infatti poi ci sono delle ritorsioni a causa di questa risposta però in quello stesso periodo storico mentre il carcere è presente nel libro quindi possiamo dire senza spoilerare che lui entrerà in carcere però nel periodo storico in cui c'entra lui siamo in un periodo in cui ci sono anche altri tipi di personaggi mentre fino a poco tempo prima se tu rifiutavi l'affiliazione eri solo in carcere quindi era la fine per te lui si ritrova in un periodo storico in cui in carcere oltre a lui ci sono ex rapinatori quindi con l'etica dei rapinatori l'etica dei cani sciolti l'etica di non avere padroni e poi ci sono anche i brigatisti ci sono i prigionieri i terroristi politici che lui mi racconta sempre io l'ho anche scritto lui lui stimava nel senso che lui dice io ho rapinato all'inizio per soldi poi per l'adrenalina tutto quello che ne è derivato loro hanno fatto quelle cose per un ideale e poi anche lì c'è sempre la linea sottile perché in carcere gli chiedono sì loro hanno fatto quelle cose per un ideale ma hanno anche ucciso hanno anche sequestrato quindi hanno giocato sulla sofferenza di famiglie di persone i rapinatori no quindi c'è anche questo sorta di dialogo scontro tra vari ideali di quell'epoca che erano ideali molto fuori adesso forse abbiamo anche difficoltà a capirlo perché il contesto è totalmente diverso prima immaginiamo c'erano attentati ogni giorno rapine ogni giorno erano anni veramente particolari e anche per quello mi piaceva raccontare questa storia perché sono anni densi densissimi sicuramente c'è un rapporto diverso con la con la criminalità con la violenza c'è anche una dinamica interna la criminalità è diversa le vallette di Torino per esempio nascono principalmente perché sono due tipi di detenuti criminalità organizzata e terroristi politici inizialmente come un carcere di massima sicurezza quindi questo fa parte del passato della storia e anche tanti altri resoconti adesso mi viene in mente lo aggiungo così di militanti politici raccontano del vissuto sia con i criminali comuni sia con la criminalità organizzata e spesso c'è questo confronto fra le varie motivazioni di crimini io avrei tante altre domande per te però mi piacerebbe innanzitutto ricordare al pubblico che siamo disponibilissimi a cogliere anche sollecitazioni in questione sia da chi ha letto il libro sia da chi vuole capire un po' meglio di cosa parla o ha delle curiosità già suscitate da quello che abbiamo detto adesso e poi vorrei dare invece un assaggio del tuo stile descritto cioè perché io leggendolo la prima cosa che ho notato è stata proprio la voce il modo in cui è scritto secondo me sul tema si possono dire tante cose però è bello anche romanziere io ti chiederei il permesso di leggere un pezzetto di quello che hai scritto a meno che qualcuno di voi non voglia intervenire prima lo facciamo dopo parlo nel microfono così viene registrato se no sembra che parliamo da soli io volevo sapere da cosa deriva il titolo nel senso se è un aneddoto oppure questo il titolo è un po' riassunto della storia nel senso che chi ha polvere spara è un modo di dire tipicamente del sud in particolare e significa che se tu hai qualcosa dentro la devi tirare fuori non devi tenerla per te quindi devi prendere in mano la tua vita e devi sparare appunto devi fare quello che senti quello che vuoi anzi mi ripete sempre Pan cioè noi dobbiamo fare quello che vogliamo quello che ci piace non quello che pensiamo possa andare bene e quindi questo concetto mi piaceva molto poi è collegato a questo modo di dire al fatto che glielo diceva il nonno il nonno era uno dei più grandi fuochisti maestri pirotecnici della Basilicata si chiamava Pancrazio Salomone che addirittura nel romanzo viene anche raccontato viene chiamato talmente che era bravo viene chiamato in America dalla gente che era lì dai compaesani che avevano fatto carriera in America per riportare lì le nostre feste e quindi volevano che il maestro pirotecnico fosse uno del posto il più bravo del posto che era questo Pancrazio Salomone il nonno di Pan e quindi c'è anche il collegamento con la polvere da sparo la polvere pirica dei fuochi d'artificio e la polvere da sparo vera e propria delle loro rapine quindi mi sembrava perfetto questo titolo questo modo di titolo che mi aveva a volte detto lui abbiamo un'altra domanda è solo per lo streaming no che passavo il microfono mi era sembrato che ci fosse sì allora prima parlavi del crimine le diverse sfaccettature che ci sono quando si tratta di ideali magari tra il rapinatore e altri tipi di criminali volevo chiederti come hai gestito il tema del crimine perché comunque il personaggio per quanto erogizzato mistificato comunque è un criminale nel senso è qualcuno che ha scelto la via mettiamola più facile a certi punti di vista quindi andando contro la legge o quello che è per fare il salto di qualità questa cosa ti ha mai messo in difficoltà durante la scrittura e come hai gestito questo nel libro premetto che non l'ho letto innanzitutto in merito a quello che dicevi tu c'è sempre una linea sottile che appunto mi ha accompagnato per tutta la stesura del libro è una frase che mi ha detto lui e quindi la riporto perché è curiosa lui dice è più coraggioso rapinare una banca oppure svegliarsi alle 5 di mattina e fare il camionista come faceva mio padre mi dice lui non lo so io non so rispondere a questa domanda però è interessante perché è uno spunto di riflessione quindi secondo me qui torna il titolo la via di mezzo è chi ha polvere e spara cioè cerchiamo di fare quello che ci piace non quello che siamo costretti a fare sia per un lavoro pesante oppure sia una cosa estrema come una rapina quindi chi ha polvere e spara mentre riguardo quello che dicevi tu gestire un criminale come è stato innanzitutto a me interessava il lato umano di questo criminale infatti poi quando leggerai mi dirai anche se per te è stato così vedrai che non viene fuori un eroe non è un supereroe in questo libro io volevo che si capisse si capissero i motivi che l'hanno spinto a fare questa vita e anche i suoi errori perché ne ha fatti molti anche dal punto di vista umano e soprattutto a me interessava anche sviluppare i suoi rapporti cioè quali sono i rapporti di un criminale come gestisce l'amicizia come gestisce i rapporti con i fratelli la madre il padre come gestisce l'amore e l'amore per esempio è un tema fondamentale anche in questo libro è molto stimolante perché la storia d'amore di un rapinatore come la immaginiamo io ho cercato di immaginarla a modo mio applausi giusta cosa giusta cosa bellissima se non ci sono altre sollecitazioni io leggo un pezzetto di questo libro dal prologo per farvelo sentire e poi abbiamo ancora un po' di tempo in realtà quindi possiamo continuare a chiacchierarne a partire da lì magari sentire anche altre due parole su questa storia d'amore che adesso ci hai fatto balenare e che è assolutamente interessante sto guardando l'orario siamo precisi anche in anticipo e qui parla di lui bambino l'inizio l'inizio di lui e presto io perché l'autore è una penna giustamente un falco vola nel cielo bianco d'estate sospeso con le ali spalancate immobile d'un tratto precipita verso terra una velocità che l'occhio umano fatica a seguire vipere aggrovigliate fuggono dal loro nido il rapace le artiglia e torna in cielo batte le ali e scompare tre bambini corrono sul sentiero che dal paese conduce alla spiaggia hanno appena distrutto il nido di vipere rapite è il loro passatempo preferito sfasciare il nido dei serpenti velenosi col rischio di essere morsi li eccita è come sfidare la morte ma la morte per i bambini è solo una parola lungo il sentiero usato dai contadini per raggiungere i campi sorge un tabernacolo costruito chissà quanti anni prima in onore della madonna la statua della vergine è corrosa dalla sabbia che il vento ruba alla spiaggia vicina i tre ragazzini si fermano facendo il segno della croce un gesto naturale istintivo fatto da chiunque passi da lì pancrazio il più robusto prende in braccio Pino suo fratello minore lo issa sulla sommità del tabernacolo Natuzzi il terzo del gruppo osserva la scena Pino in cima all'altare dedicato alla madonna gli fa una strana impressione gli sembra più giusto rompere i nidi delle vipere ma non lo dice la vedi chiede pancrazio suo fratello no risponde Pino forse è già passata può essere ma dobbiamo essere sicuri se ci becca ci ammazza Natuzzi con le mani nelle tasche dei pantaloncini fissa la valle come i suoi amici Pino allunga un braccio e indica un punto della strada maestra eccola esclama sta passando è la corriera guidata dal padre in paese è difficile trovare bambini in giro spesso nei pomeriggi estivi senza dire niente ai genitori salgono sull'autobus e vanno a giocare in spiaggia pancrazio e Pino non possono perché a guidare il mezzo è il padre che gli impedisce di andare al mare da soli devono aspettare che la corriera sia passata quando la vedono lontana continuano sul sentiero della spiaggia pancrazio incrocia agli occhi di marmo della madonna e tira giù il fratello dal tabernacolo si ricorderà di quel gesto molti anni dopo prendendo tra le braccia la donna della sua vita allora la prima pagina e io perché l'ho voluta leggere perché mi sembra un esempio del modo in cui tu hai dato voce a questa storia cioè con dei tratti molto semplici a volte con una con una scrittura molto naturale però molto evocativa che è proprio anche piena di atmosfere e soprattutto quando parla dei luoghi dei territori della Torino che incontriamo grigia e fredda ma soprattutto del territorio natio di pancrazio ha dei tratti di nostalgia e di affetto incredibili e quindi mi chiedevo quanto fosse una cosa meditata quanto ti è venuta naturale magari questi tratti si riconoscono leggendo e volevo capire quanto sono pensati quanto invece sono venuti spontanei io penso che quando si scrive o quando si crea qualsiasi qualsiasi tipo di forma d'arte quando proprio si fa un lavoro creativo ci si ha dentro tutto quello che abbiamo vissuto in realtà quindi non è secondo me qualsiasi forma d'arte non è mai proprio pensata oppure non puoi avere uno stile tuo subito ma in realtà c'è dentro tutto quello che hai letto tutto quello che hai visto tutto quello che hai ascoltato a me piaceva molto impostarla in modo semplice come hai detto tu perché mi piace innanzitutto mi piacevano soprattutto in età adolescenziale gli scrittori americani che avevano una scrittura molto fluida infatti tra loro c'è Faulkner che diceva il lettore non deve mai prendere il vocabolario quando legge questa è una cosa che anche lì c'è la linea sottile perché si può anche imparare quando non conosciamo termini nuovi ma a me piace che devi leggere devi andare avanti e poi a me io sono un grande appassionato di cinema quindi ci ho messo dentro il cinema cioè io ho visto se anche senza volerlo che impostavo le scene come quella di un regista cioè a me interessavano i primi piani è quello che mi piace del cinema anche un ritmo veloce alternato appunto a primi piani a queste riprese di vallate quello che mi ha che ha influito di più in tutto per me è Sergio Leone perché io sono cresciuto da bambino c'era mia nonna mio padre fissati con questi film che erano proprio una narrazione per immagini e io penso di appunto all'inizio quando iniziato a scrivere ho maggiato proprio emulare i miti sia gli scrittori americani che i registi poi te ne approvi nel senso poi diventa tuo e proprio diventa il tuo stile quindi ho messo insieme tutti questi miei miti che mi avevano influenzato per creare un tipo di narrazione di quel tipo che mi diverte scrivere mi deve divertire altrimenti perde di valore meno male così continui e noi continuiamo a leggere no scusate la battuta comunque sì e niente allora io volevo tornare un attimo dopo questa parentesi stilistica no proprio sulla e poi è vero ci si ritrova fra le pagine questo aspetto cinematografico questo aspetto anche e anche la facilità poi sembra una parola così però insomma in inglese si direbbe un page turner no un libro che fa girare le pagine veramente così si segue una pagina o un'altra in maniera infatti io non vedo l'ora che finiamo così finisco di leggermelo finalmente capisco come va a finire anche se ho lo spoiler di avere la storia del personaggio principale eccetera eccetera e niente ti volevo chiedere qualcosa di più appunto su questo tema che avevi fatto balenare della storia della storia d'amore della storia romantica non so fai tu quanti spoiler vuoi pochi lasciamo lasciamo qualcosa da leggere al nostro pubblico però se ci vuoi dire qualcosa di più allora Pan nella vita reale ha avuto una grande storia d'amore che mi ha raccontato e che mi ha emozionato e che devo mettere a tutti i costi in questa storia ed è una storia che stride un po' col personaggio nel senso che questa ragazza di cui lui si innamora è una ragazza estremamente semplice non la famosa donna del boss a cui pensiamo e che abbiamo visto ne stravisto nei film quindi la semplicità di questa ragazza che però aveva un carattere particolare cioè lei notava i dettagli delle piccole cose si fermava lì a vedere una foglia e raccontava una storia la cosa che mi piaceva e mi affascinava di più nel raccontare era mettere insieme quello che ho vissuto anch'io cioè sia nell'amicizia che nella famiglia che nell'amore volevo raccontare anche quello che io avevo vissuto quindi non conoscendo nel profondo ovviamente non conoscendo i dettagli anche intimi intimi nel senso di discorsi non lo so di tra pan e questa sua ragazza mi piaceva anche inserire cose che ho vissuto io che gente vicina a me mi aveva raccontato ed è un modo secondo me molto interessante per chi scrive per far rivivere in quelle scene in quelle pagine quello che tu hai vissuto anche se poi è camuffato sotto altri nomi e sotto scene un po' diverse però secondo me alla base proprio della scrittura un po' per tutti c'è la propria vita la propria realtà anche nei romanzi di fantascienza e quindi questa storia d'amore è un po' secondo me il massimo è l'apice di questo libro nel senso che lì poi succede tutto il magia il climax famoso climax delle storie mi fermo sempre un attimo per spiare il pubblico di qualcuno ecco c'è un io vieni con noi ciao innanzitutto grazie di essere con noi ti volevo chiedere secondo me i libri nascono da determinate ferite emotive cioè mai si diventa che so femministi per il piacere di esserlo oppure ambientalisti per il piacere di esserlo oppure organizzatori di feste per il piacere di esserlo quindi ti chiedo qual è la tua ferita emotiva se ti va a scoprire se ce l'hai e io sono sicura di sì che ti ha portato ad appassionarti al crimine ma questa è una domanda che dovremmo fare a lui io mi sono appassionato più che altro alla scrittura è una domanda molto intima però come dicono in un film di Sergio Leone le domande non sono mai indiscrete le risposte lo sono e lo dico perché a me piace appunto raccontare anzi nel libro ci saranno dei richiami io ho iniziato a scrivere quando è morto il mio miglior amico a 16 anni io andavo a scuola andavamo insieme a scuola questo mio amico è morto e per me è cambiato proprio totalmente la visione della vita e cioè dopo un inizio ovviamente tragico perché era il mio migliore amico ho iniziato a dire chi ha polvere e sparo ci ho detto io adesso inizio a fare quello che mi piace fare indipendentemente da tutto indipendentemente da quello che dicevano di me da quello che si poteva dire da quello che potevano pensare quindi ho iniziato a scrivere anche se mi prendevano magari in giro immaginate in un paese dici che scrivi ti prendono un po' in giro dici che leggi io mi ricordo da scuola portavo i libri miei i libri di Bukowski John Fund che erano i miei miti adolescenziali mi prendevano tutti in giro legge questo e però in realtà poi appunto è stata la ferita emotiva che ho dovuto colmare con altri aspetti con le mie passioni e secondo me questo è una cosa che può salvare tra virgolette o almeno può dare uno stimolo a molte persone soprattutto ragazzi che hanno qualsiasi tipo di ferita emotiva e cioè rifugiarsi nelle proprie passioni infatti anche in una scena del libro c'è un amico di Pan che gli dice mantieni sempre il tuo cuore ancorato a qualcosa cioè anche quando sei completamente disperato tieni qualcosa in cui rifugiarti per me è stata la letteratura i film la musica e poi la scrittura che è stato proprio un vero e proprio sfogo e cioè mettere lì dentro come dicevo in storie di altri apparentemente di altri anche la mia storia e quindi ripercorrerla è stato anche utile per superarla che poi non si supera mai del tutto però hai una certa consapevolezza almeno cioè ci convivi meglio e diventa anche un piccolo punto di forza cioè dici io ho superato quella cosa lì posso superare anche altre cose e quindi chi ha polvere e spada risposta discreta ma profonda molto bello sì mi sono perso mi ha fatto perdere il filo è una domanda troppo bella però ti ha preso alla sprovvista bello no c'era una cosa che ci stavamo dicendo prima di cominciare questa ghiacchierata con di fronte di tutti gli altri che è questo parallelo tra scrittura e il e il crimine in qualche modo no che in in qualche modo si somigliano da un certo punto di vista ecco nel tuo protagonista c'è in qualche modo l'arte del crimine perché a un certo punto sembra che faccia rapine certo per l'adrenalina per la sensazione ma anche quasi per un orgoglio d'artigiano cioè le fa perché le sa fare meglio degli altri e sa di saperle fare meglio degli altri e sceglie obiettivi quasi impossibili proprio per dimostrare quanto è bravo è un virtuoso infatti lo chiamano solista del kalashnikov come nomignolo e quindi c'è questa dimensione sua virtuosistica però ci interessa anche l'altra che ti riguarda il lato inverso che ti riguarda qui da vicino cioè in che senso scrivere e l'espressione artistica in generale in qualche modo si avvicina al al crimine è un è una necessità di rompere stereotipi forse di rompere il linguaggio forse per l'aspetto del coraggio dell'incoscienza che ci vuole qual è la tua risposta che non è nessuna di quelle che ho detto dalla tua faccia non è nessuna per me l'arte è un crimine perché è un furto è una rapina che noi facciamo cioè che gli artisti fanno dalla notte dai tempi se ci pensiamo e cioè Jung diceva per esempio che ogni bambino è sessionato dall'idea di diventare adulto e cosa fa per diventare adulto più presto emula emula i suoi miti che all'inizio sono i genitori i nonni quelli che gli stanno vicino ma man mano cresce sono proprio i miti letterari i miti artistici qualsiasi tipo di mito e quindi quando si inizia a scrivere quando si inizia a dipingere quando si inizia a girare dei film cosa si fa? si prende spunto dai propri miti si ruba infatti Picasso diceva i grandi artisti non citano rubano e questa citazione li la ruba sempre Quentin Tarantino che è uno dei miei registi preferiti e infatti di tutto questo discorso lui ne ha fatto un vero e proprio stile lui è un criminale della regia un criminale del cinema e lo dice ed è una cosa che mi piace tantissimo perché condivido e cioè lui cosa fa? prende da tutti i suoi miti e li mette col suo stile in un unico film il risultato lo conosciamo tutti è fantastico ed è originale ed è uno stile unico e che crea addirittura movimenti artistici successivi quindi l'emulazione continua e addirittura quando Giuseppe mi ha chiesto di parlare anche di questa cosa cioè l'arte come crimine il crimine come arte io avevo questa cosa dell'emulazione e pensavo che mi fosse venuta cioè che noi emuliamo da quando siamo nati quando sono tornato a casa da Modena dove vivo ho aperto un libro a caso così ogni tanto mi piace sfogliarli ho trovato un libro di Aristotele la poetica si chiama dove ho sottolineato la frase l'arte è un'emulazione continua quindi detto da Aristotele era la pietà tombale quindi era una riminescenza di cose che avevo letto tra l'altro e quindi come vediamo è un furto continuo l'arte ma è bellissimo così perché noi mettiamo insieme i nostri furti cioè i furti che facciamo e poi ci mettiamo insieme la nostra vita che è la continua emulazione ricerca di arrivare a determinati obiettivi ma per la fine appunto l'arte posso chiusare in due modi le cose condivido perfettamente le cose che ho appena detto una è che i ladri bravi in teoria non si fanno prendere e quindi in questa cosa dell'emulazione c'è una cosa che tu hai detto che io vorrei sottolineare è le rifà ma con il suo stile cioè le rifà sia Tarantino le rifaceva sia Picasso in un modo che non poteva essere che suo quello è il segno di un furto riuscito potremmo dire in qualche modo nessuno può dire che non ci sia stata un'emulazione ma quando diventa quando è che riesce quando diventa un tratto organico stilistico riconoscibile e autentico nel suo essere stato trafugato e la seconda cosa è che c'è un po' una dimensione di criminale poetico di Robin Hood nella furto degli artisti perché gli artisti rubano però poi ridanno tutto e senza il furto artistico sarebbe difficile riavere tutta questa vita vissuta senza testimoni e quindi in qualche modo sì erano solo pensieri di chiosa quello che mi dicevi abbiamo tanto nuovo pubblico quindi se qualcuno ha delle curiosità anche nate successivamente su questo questo bellissimo libro posso dire bellissimo libro o è piageria ah eccoci abbiamo un'altra domanda allora io sarei curiosa di sapere come ha reggito Pan alla sua proposta iniziale di fare un libro se inizialmente era contrariato o al contrario orgoglioso di avere un libro proprio sulla sua vita e come ha reagito dopo alla lettura finale del libro se ha avuto delle critiche o se ne era soddisfatto grazie come ho detto prima la cosa bella di Pan è che a parte che è una persona strana nel senso poco inquadrabile completamente generosa e che tu fai fatica a spiegarti anche di suoi lati però la cosa bella per me è stata come dicevo prima che mi ha dato carta bianca lui ha detto scrivi però io non ho appunto non capivo se era un modo anche per mettermi alla prova non sapevo se lui dice scrivi perché durante la nostra prima conversazione il nostro amico in comune cioè il suo cugino gli aveva detto Donato scrive e Pan mi aveva detto lui ha detto ma visto che ti interessa la mia storia perché ero stato lì una settimana lui appunto essendo generoso mi aveva detto rimani qua ti racconto altre cose se ti va di scrivere scrivi io ho colto la palla ho colto la palla al balzo e ho iniziato a scrivere sì riprova è rosso significa qualcosa che è rosso ok ok dicevo io all'inizio non mi sentevo assolutamente in grado di poter raccontare una storia così complessa e anche così avvincente perché io fino ad allora considerate che parliamo di sette anni fa avevo scritto solo dei racconti giovanili così anche se mi appassionava molto questa storia così mi sono preso il tempo giusto cioè io sentivo di dover essere maturo prima di poter scrivere tutte quelle cose innanzitutto dovevo vivere perché per scrivere devi vivere la grande ispiratrice è proprio la vita e poi dovevo anche studiare cioè ricercare a me non interessava molto cioè non interessava solo la sua storia a me interessava tutto il contesto non volevo basarmi sulla sua testimonianza io volevo avere una panoramica completa di tutto il contesto della sua vita e dei suoi anni quindi ho dovuto studiare dovuto con piacere ho studiato tante biografie di criminali di quell'epoca e la cosa interessante è che ho trovato che ragionano tutti allo stesso identico modo e cioè sono dei bambini che giocano a fare i rapinatori dopo averlo letto lui io avevo molta paura ovviamente perché tu giochi scrivendo scrivi giocando con la vita di qualcuno in un certo senso e lui però dimostrando la sua grande intelligenza mi ha detto è il modo giusto quando dopo averlo finito ha detto va fatto così e gli è piaciuto moltissimo perché diceva tu dovevi essere libero di raccontare non doveva essere una biografia ed era molto contento di questa poi mi ha spiegato ieri durante la prima presentazione a Tricarico che in realtà mi aveva studiato durante il nostro primo incontro aveva visto ogni mio movimento aveva letto ogni mia domanda prima di dirmi se volessi scrivere quella storia me l'ha svelato ieri non lo sapevo quindi quindi in realtà era una fiducia che aveva studiato sì era una pagina bianca però prima di concedertela si era preso diciamo il suo è in carattere col personaggio è proprio è proprio in linea col personaggio va bene io non so se questo era un l'accenno del soundcheck di qualcosa che sta per succedere fra dieci minuti inizia no? alle sette mi hanno detto che bisognava chiudere alle sette quindi abbiamo gli ultimi dieci minuti per se ci sono altre altre questioni o domande da parte del pubblico salve si è moltiplicato abbiamo anche tutto vi siete persi la prima parte che era bellissima io la garantita che era bellissima io per mia curiosità personale io ho vissuto il giro di dieci anni a Torino quindi le parti su Torino una delle parti che tu racconti e che tocca molto alcuni aspetti di cui abbiamo parlato qui e naturalmente i tecnologici nei giorni scorsi sono stati molto legati per esempio al tema della migrazione dello spopolamento del sud dell'arrivo al sud tu lo racconti lo racconti tramite la storia familiare del tuo protagonista e quindi ci sono delle scene anche un po' malinconiche un po' dure di questo punto di vista e abbiamo detto che viene tutto dalla vita viene tutto dall'esperienza come ci sei arrivato era un tema che hai incrociato che hai trovato già nel tuo materiale che volevi trattare sì era un tema che faceva parte appunto di questa storia anzi è l'elemento fondamentale di questa storia cioè tutto inizia quando i genitori decidono di emigrare a Torino e quindi il protagonista si ritrova da questo questo piccolo paradiso tra virgolette per un bambino che è Bernalda col mare gli amichetti i giochi i fuochi d'artificio del nonno a una città grigia come sai bene forse adesso un po' meno però grigia come Torino e quindi come sapete bene anche adesso no no è bellissima Torino non volevo fare un distingato Torino scusatevi però capisco lo shock ambientale di chi viene da Bernalda nel ritrovarsi in questi abbaini che abitati oltre a quello appunto trova anche oltre a una città fredda grigia a cui non erano abituati ed enorme rispetto a Bernalda trovano anche la discriminazione il famoso non si affitta i meridionali addirittura nelle fabbriche dovevano lavorare i nostri conterranei i proprietari delle fabbriche che hanno le case a Torino non le affittavano ai loro dipendenti quindi immaginate un ragazzino di 14 anni come può vivere una cosa del genere una cosa profondamente che fa parte della storia anche di quella città cioè a me è capitato adesso non so se alleggerire mi è capitato con dei miei studenti giovani di terza di terza liceo di terza scuola superiore e uno ha dato all'altro del terrone e un terzo è intervenuto a dirgli non gli dare del terrone che il professore è un Napoli sì infatti io sono di Perugia peraltro non me lo merito cioè a parte che non se lo merita nessuno però insomma la loro idea di Napoli parte praticamente dal Po infatti è uno dei nomi che gli danno proprio non so se ci sia arrivato sì sì no sono arrivato infatti ho riconosciuto che proprio c'è il Napoli a Torino è il Napoli chiunque Napoli è la summa di tutto il sud del centro sud ed è proprio un trauma perché cancella anche qualunque specificità territoriale cioè non interessa se è un Napoli se arrivi a Torino da qualunque posto se è un numero da discriminare e c'era questa stratificazione sociale che era proprio urbanistica con i primi piani delle case padronali i secondi piani della servitù e in cima negli abbaini gli operai meridionali infilati in queste case esatto e questa fa parte della storia della città che forse ha più ricevuto potremmo dire in termini di energie di persone dal sud che forse soprattutto in certi periodi con pochissima grazia diciamo ha ricevuto e quindi ha colpito molto questa rappresentazione che tu fai anche in chiave familiare quindi in termini di affetti che sono molto più molto più coloriti di quello che può essere e poi io non so se siamo lunghi coi tempi però un'ultima domanda te la vorrei fare che è quella sul rapporto col padre perché il tuo protagonista ha un rapporto particolare il padre sembra il prototipo dell'uomo onesto cioè il criminale è un padre che è il prototipo dell'uomo onesto uno che veramente decide di faticare per la famiglia addirittura quando si trasferisce non capiscono perché lui che al paese aveva una posizione quasi preminente comunque conosciuta va a fare l'operaio va a fare questi turni massacranti in quella fiat dell'epoca che veniva chiamata la feroce per la durezza della repressione interna e dell'ogorio del lavoro di fabbrica e quindi com'è questo rapporto secondo te è un tentativo di essere anche qualcosa questo essere suo bambino questo essere bambino è dunque criminale bandito potremmo dire è una reazione a quello che il padre ha subito cioè implica una critica alla vita del padre o un riconoscimento della sua della sua sofferenza cioè c'è qualche qualcosa che risponde a questa implica la sua voglia di indipendenza anche dal padre perché lui riconosce tuttora suo padre come emblema dell'onestà come dici tu però dice anche quanta sofferenza ha comportato questa sua onestà e quindi lì scatta sempre quella famosa linea sottile chi ha ragione tra il criminale e l'onesto lavoratore e quindi una domanda che si ripete però la cosa che è interessante con la quale possiamo concludere tutto questo ragionamento sul padre è che il padre fa anche un po' il duro nei suoi confronti durante le sue azioni lo critica molto addirittura quando esce dal carcere non si fa trovare per dargli un messaggio forte ma anche se non si fa trovare lì accompagna sempre suo fratello per dire io non ci sono per darti un messaggio di rimprovero ma ci sono e quindi c'è questo rapporto che secondo me è anche molto meridionale ho riconosciuto anche molto il rapporto con mio padre di poco dialogo e di piccoli gesti che tu devi cogliere per capire se effettivamente ti vuole bene almeno so di non essere l'unico tra le persone che conosco è un po' una cosa dei padri devo dire non lo so quanto possiamo fare vedo delle teste che annuiscono quindi abbiamo toccato un punto dei rapporti intergenerazionali forse un po' comune allora io ti ringrazio forse abbiamo un tempo per qualche altra sollecitazione non ce l'abbiamo mi dicono dalla regia allora niente io non mi resta che ringraziarti per questa chiacchierata che è stata molto istruttiva forse è il mio no è il mio è sempre stato questo che fa problemi il libro lo ricordiamo chi ha la polvere spara lo trovate su quel banchetto lì procuratevene una copia perché è una lettura fantastica e ringraziamo di nuovo Donato grazie mille a te grazie mille a voi grazie a tutti voi che siete qui ascoltate a Siscrat che ha organizzato l'evento come sempre e adesso musica grazie mille a te